Ciao, oggi vi farò un po' di esercizi, mi è venuta la voglia, quindi perché mi stavo un po' annoiando e adesso parto con la destra. Mi si sta scaricando scusa, adesso cento con la sinistra. Dove cento! Adesso farò destra, destra, destra e dopo ancora destra, destra e dopo sinistra, sinistra e sempre uguale. Poi, va! Sessant, assi, che faccio un po' di esercizi. Sessant, assi! Sessant, assi! Sinistra! Sessant, assi! Sessant, assi! adesso lo faccio il 65 con la sinistra abbiamo fatto adesso con la destra setze zanz tranchino ecco un 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 Adesso per oggi così dovrebbe bastare. Ciao!